Catacliff! Con un risultato di 7 a 5. Miglior cannoniere è il risultato l'agropolese Vincenzo Margiotta che ha ricevuto in premio una crociera. Crociere 3.0, crocerista.com, la Forio Travel che insieme a Costa Crociere abbiamo avuto quest'idea di premiare il capo cannoniere con questo premio che è una crociera per due persone nel Mediterraneo. Quindi è stata anche una lotta vincente perché i ragazzi ce l'hanno messa tutta perché comunque è un bel premio e ci tengono a fare questo viaggio. Esprimono soddisfazione gli organizzatori Gerardo Scognamillo, Giuseppe Villani e Giuseppe Mazzeo. Presenti inoltre alla premiazione l'assessore costabile Nicoletti, i consiglieri Marco Di Biase e Salvatore Marinelli. Non vi nego che questa iniziativa è partita con me il primo anno insieme ad altri amici che organizziamo questa cosa, quindi mi fa molto piacere che oggi da amministratore sono qua a premiare un ringraziamento agli organizzatori perché a noi piace questa cosa, accompagniamo come amministrazione questa iniziativa perché c'è il divertimento dei giovani, c'è lo sport e lo sport è sano. E quindi su queste basi ci teniamo che questa manifestazione vada sempre avanti e che ogni anno possa migliorare.